buongiorno siamo al centara grand di caron oggi andiamo a vedere com'è l'entrata è un po da paura albergo sembra che ci sia gente siamo all'entrata alla lobby la lobby sembra maestosa sala d'aspetto lobby una bella lobby con cascate incorporate un negozietto immancabile ATM prendeva i soldi sala business in Peter qua dove probabilmente mettono tutte le cose non sembra così malpasso come non si può vedere qualunque ruome hai qui? qualunque ruome hai qui? qui abbiamo 252 ruome per 10 villas 252 ruome ok grazie più di 250 camere e 10.000 c'è il vialetto, per scendere voglio tagliare un po' di erba è questa la spiaggetta del centara come potete vedere un bel pezzo di spiaggia non c'è nessuno e di qua vediamo l'albergo ok un'autista personale un bel pezzo di spiaggia 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 doppia entrata ok qua esci e vedo 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 c'è gente sta tornando gente tanti italandesi praticamente qualche straniero che approfitta delle promozioni e il prossimo mese mi hanno detto che apriranno anche Tutti Beyond a Catà il Catatani non è mai stato chiuso quindi c'è gente c'è qualcosina non ai livelli del 2019 però dai qualcosina si muove e niente speriamo che prosegua così questo virus qua ci lascia respirare un po' e raga vi saluto ci aggiorniamo preparvi ciao per scattore c'è un sacco di senti non riesce 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 perché non ci possano ai no 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 sta arrivando un po' di roba da manzana mi faccio sapere dopo quanto abbiamo speso ahahah 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 ahahah